Ciao amici, oggi mi trovo a Ordos in Inner Mongolia ed è proprio in questa città che producono il cashmere più elevato e più pregiato al mondo. Oggi ho l'occasione di visitare una delle aziende che producono cashmere più importanti, più famose di tutta la Cina e vi porta con me. Andiamo! È veramente morbidissimo! Guardate! Ora vediamo la tua città che è di più alta qualità. La crisi è che this knights è tennito a la Raviglia di fissi e di fissi. Poi non possiamo andare a fare la scissica e di fissi si sono continuo a fare la scissica della città del loro umano. Perchè ancora senza che spiega la scissica dell'amore di fissi o nessuno, come veri o per i fissi un'amore. Quasci, se possiamo prendere la scissica in gusto o per i fissi? Quasi non faccio la scissica in continuo a fare la scissica in così stessa. Quasi la scissica in cui prendere i fissi, in questo modo si stessa in tutto abbiamo? No. Alla scissica in fine di tutto? Questo è davvero morbidissimo, molto pericoloso. Questo era solo il primo passaggio nella lavorazione della fibra per la produzione del cashmere. Ora andiamo a vedere il secondo passaggio. Dopo la raccolta, lo smistamento, la tosatura, ora vediamo insieme la filatura e la testitura. Cosa c'è? 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 Dima2 c'è un cacè più buono. Qui c'è la gh szczigionale? Cosaе c'è? Cosa c'è? Dì, qui c'è l'occalante, la curiosità qui in etwa 10 minuti a Carrie. Cosa c'è? Questo è del caccio. La caccio è la caccio. Ci sono scocciate. Questo è il caccio. Dessere l'accio. L'accio. Siamo corretto. Dessere l'accia. Si, ci sono ieri per il caccio. Questo è il caccio. Si. questo è XL guardate questo e vedete la differenza XL è diventata molto più lunga Luca in realtà mi riuscite che L, M, XL è un giusto è un giusto, è un giusto, è un giusto è un giusto, è un giusto, è un giusto ma non mi racconta come ho, è un giusto è un giusto, è un giusto è un giusto, non è un giusto è un giusto, non è un giusto invece di dire, se fosse un giusto, vado su questo giusto ecco i vestiti finali si possono anche comprare, vediamo quanto costano questo è un'esercizio come ti prendi questo vestito? a fare il testo e poi togliere il testo e poi siamo iniziati a cercare e poi andiamo a cercare e poi prendiamo il testo e poi prendiamo il testo e poi prendiamo il testo dopo la filatura si dovete andare a controllo ciao Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. E��ibe benimle Escoli San吧 8 Excellent Ete ện Adoptate Con la prossima alla prossima Modiglio Adoptate Iscrivete Fr centered Con i God istav questo dopo lo sanno? sì e poi ci sono i fatti? ci sono i fatti ci sono i fatti questo non c'è il fatti questo è il fatti questo è il fatti 425 questo è il fatti 420 euro ragazzi questi sono in euro vengono esportati all'estero uno di questi costa 420 euro guardate 420 euro questo è il fatti questo è il fatti questo è il fatti questo è molto più è lo che è il fatti è c'è quello che si pensi non è qualcosa questo è tutto in grado in grado in grado non è un fatti in grado in grado in grado in grado in grado i ragazzi si, i ragazzi Questo è un cliente francese, vedete che c'è scritto cliente Francia. Per il vostro cliente, il vostro cliente è abbastanza. Sì, ci sono tutti i vostri clienti. Dopo l'ultimo controllo, ora i vestiti vengono impacchettati. Questo è il vostro cliente. 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 Guardate qui, questi sono tutti i vestiti già pronti per spedire. Vedi non ci sono i vostri clienti. Questo è Прimacente. Lui si dice che c'è un giangio. I vestiti può essere imbustato. Vengono messi, vedete in quelle scatole Quei cartoni E poi vengono spediti Spero che questo video vi sia piaciuto Ed è stata anche per me la prima volta che visito un'azienda Che produce Kashmir E' stato veramente molto interessante Un saluto dalla Mongolia interna Non dimenticatevi di lasciarci un like E di iscrivervi al nostro canale Ciao 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 Vabbè